Le parole possono essere baci, carezze, farmaci oppure coltelli, spade o proiettili. E' una riflessione acuta quella di Papa Francesco che rivolge ai fedeli di tutto il mondo per condannare il chiacchiericcio allo sparlare degli altri. Il Santo Padre lo fa nella prefazione scritta di suo pugno al volume Non sparlare degli altri di Padre Emiliano Antenucci. Il libro è stato presentato nella nuova libreria Bosio in via Vicentini a Chieti. Incontro moderato da Antonio Di Giosafat. E' un incontro importante per parlare di questo libro che ho scritto vari anni fa. Non sparlare degli altri perché il pettegolezzo è uno sport internazionale. Allora più che sparlare degli altri dobbiamo parlare bene degli altri, dobbiamo benedire, cioè dire bene non maledire, dire male. E c'è un legame speciale tra frate Emiliano e Papa Francesco. Questo libro il Papa lo ha distribuito a tutti i suoi collaboratori di curia, non solo anche ai vescovi e ai cardinali, perché proprio per evitare, di fatti ha messo una copia della Vergine in silenzio nel cortile di San Damaso all'ascensore per andare da lui, proprio per evitare il chiacchiericcio, come ha scritto lui nella lettera per aprire il santuario, questo vizio della curia romana. E non solo. Fra Emiliano è tra l'altro rettore del santuario della Madonna del silenzio ad Avezzano. Sì, ecco, due anni di grazie, due anni con tanti fedeli da varie parti d'Italia, ma anche mi iscrivono da varie parti del mondo. Diciamo che il silenzio è la lingua di Dio e del linguaggio dell'amore. E il silenzio anche per guardarsi dentro? Innanzitutto di stare attenti alle parole, di usare delle parole utili, delle parole giuste, delle parole di speranza e di amore, quindi di non usare parole negative. E poi ogni giorno un quarto d'ora di fare silenzio interiore per ascoltare questa brezza leggera del vento, cioè la voce di Dio. 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 Dio.